Convivere con Covid, cosa cambia in Trentino? Ecco alcune novità previste dall'ordinanza valida fino al 17 maggio. Ci si può spostare all'interno della provincia e della regione per motivi di lavoro, salute, necessità o per far visita ai parenti. Gli spostamenti sono consentiti per attività sportive ma senza l'uso di automobile o mezzi pubblici. Anche gli spostamenti fuori regione sono autorizzati ma solo per motivi di lavoro, di salute, di urgenza o per fare rientro presso la propria abitazione. Ci sono dei casi particolari ad esempio se un tratto del mio tragitto verso un comune trentino sconfina in un'altra regione, si può transitare ma senza fermarsi salvo cause di forza maggiore. L'ordinanza prevede che si possa raggiungere la seconda casa da soli in giornata per svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Anche il cambio delle gomme è considerato tra gli spostamenti di necessità. Per gli acquisti alimentari è consentito fare la spesa sul tragitto casa-lavoro anche fuori dal proprio comune. Più in generale è consentito andare nelle attività di vendita di genere alimentari che si trovano nell'ambito territoriale dei comuni confinanti rispetto al proprio comune di residenza. Capitolo attività sportiva e all'aria aperta. Sono consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti professionisti di sport individuali. All'aperto su tutto il territorio provinciale e regionale è consentito svolgere attività sportiva individuale, corsa a piedi, bicicletta, caccia, pesca, qualsiasi sport individuale oppure fare passeggiate e camminate. Attenzione, bisogna mantenere la distanza interpersonale, due metri per l'attività sportiva e un metro per ogni altra attività. Quando si fa attività sportiva bisogna portare con sé la mascherina e usarla se si incrociano altre persone. Non è obbligatoria per i bambini sotto i sei anni e per le persone con forme di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina. Quando invece si fanno passeggiate e camminate o lungo i tragitti per la spesa, lavoro, è bene usare la mascherina per proteggere il prossimo. Anche in questo caso non c'è l'obbligo per i bambini sotto i sei anni e per le persone con forme di disabilità. Sempre in tema di attività sportiva o motoria, i minori e le persone non autosufficienti possono essere accompagnati da entrambi i genitori o congiunti dello stesso nucleo familiare. Ricordiamoci che l'attività sportiva e motoria deve avere inizio partendo dalla propria abitazione o luogo di lavoro. Non è consentito insomma l'uso di mezzi pubblici o privati per iniziare altrove queste attività.